Tante clienti in vista delle vacanze? Armatevi di pazienza e ascoltate questi 9 consigli preziosi per velocizzare i vostri numerosi trattamenti. Consiglio numero 1. Come costruttore potete utilizzare il Michelangelo. Il Michelangelo è un prodotto che non cola e vi consente di lavorare a tutte e cinque unghie contemporaneamente. Consiglio numero 2. Un altro trattamento veloce da utilizzare è l'acrilico. Questo vi ridurrà i tempi morti di posa in lampada. Perché non dovrete utilizzarla? Consiglio numero 3. Se vi tocca fare un refill utilizzate un gel di media densità. Questo essendo automodellante vi ridurrà i tempi di limatura. Consiglio numero 4. Perché utilizzare una sola lampada se puoi usarne due? In questo modo puoi tranquillamente lavorare su entrambe le mani. Consiglio numero 5. Cerca di creare una bombatura quasi perfetta già nell'applicazione del prodotto. Così riduciamo un po' i tempi di limatura. A proposito consiglio numero 6. Lima la struttura con la fresa. Senza dubbio. Consiglio numero 7. Per una comertura e smalto semi permanente vi consiglio il vitamin gel. Questo è un prodotto pratico e veloce in formato con pennellino dove non c'è bisogno di limatura se si effettua una piccola bombatura. Consiglio numero 8. Consigliate alle vostre clienti delle latte veloci, bellissime e super alla moda. Con cosa? Con le polveri sirena. Queste sono delle polveri perlescenti e multicolor da stendere sulla dispersione del colore. Quindi molto veloci. Oppure il total chrome. Il total chrome si utilizza invece su una finitura senza dispersione come il magic gloss. Consiglio numero 9. Decorazioni smalto semi permanente. Io vi consiglio il rubber cauccio. Con questo prodotto potete creare delle decorazioni in pochissimo tempo di colore in dissolvenza.